ragazzi ora è ufficiale è ufficiale Paolo Fonseca non sarà più l'allenatore della Roma il prossimo anno e ragazzi per me non è il segreto di Pulcinella cioè io ragazzi sono un paio di mesi credo prima di Roma Napoli avevo detto che Fonseca non sarà più l'allenatore della Roma adesso è uscita l'ufficialità ripeto a me non serviva io lo sapevo però io spero che questa ufficialità venga accompagnata da tante altre cose nel senso io ringrazio Paolo Fonseca come uomo perché è venuto a Roma rinunciando anche dai soldi accettando la Roma a dispetto degli altri come allenatore no lui e il suo staff perché hanno fatto danni su danni portando una Roma a una debacle dopo due anni veramente scandalosa una Roma con una condizione fisica allucinante giocatori che si rompono giocatori che si rompono muscolarmente che si rompono il cazzo rapporti interpersonali con giocatori con parecchie litigate giocatori spariti riappariti certe cose veramente allucinanti abbiamo visto in questi due anni di gestione tecnica adesso spero che i free hacking perché mancano cinque partite comunque abbiano ripreso a rapporto anche i ragazzi eh tutti i calciatori tutti dicendo lui va via paga perché allenatore a scadenza è giusto che va via paga l'allenatore ma adesso mancano cinque partite non è che si può sbragare soprattutto quando c'è un derby allora adesso carciatori voi io zero free hacking non lo so in americano come vi pare gli dicevo adesso siete in valutazione voi i rinnovi tutto bloccato si vedono da queste cinque partite si vedono i rinnovi se no io vi cedo a tutti vi mando al giardino compro altri giocatori non me ne frega niente cambio anche i giocatori tutti quanti intanto glielo dico e i rinnovi di contratto sono tutti bloccati perciò adesso vedete voi potete fare allenatore lo sapete andrà via rimane lui secondo me giustamente ragazzi ieri chi vi parlava dei traghettatori dei sotto e dei soli ragazzi era una cazzata enorme chi ci mette i De Rossi che comunque sarebbe venuto conti lasciamo perde De Santis ormai cinque partite il danno avete fatto io lo cacciavo a gennaio Fonseca per carità ormai la cazzata l'avete fatto l'avete tenuto adesso giustamente queste cinque partite ma intanto richiamo tutta la squadra non ve fate vedere doloretti ve buttate malati in cassa muta cm non esiste adesso dovete proprio farmi vedere che uomini siete per rimanere nella Roma perché saltranno la Roma cambia allenatore ma cambia anche i giocatori perché e non vi rinnovi i contratti non vi rinnovi i contratti andatevi a parametro zero a me ve lo dovete meritare di rimanere alla Roma giocatori ve lo dovete meritare di rimanere alla Roma adesso ha pagato lui l'allenatore il primo responsabile più responsabile ma compreso voi che siete responsabili e compreso noi perché anche la società ha fatto i seroni adesso vedremo io ripeto da mie notizie non è da mia supposizione da mie notizie so che l'allenatore ha meno di colpi di scena all'ultimo ma sarà maurizio sarri ma maurizio sarri dovrà essere messo anche lui nelle giuste condizioni staff medico al cinema affari affari medici di famiglia possono andare quelli staff di fisioterapisti via cambiamo cambiamo tutto staff tecnico ci pensa sari con la preparazione ci pensa sari spero che si torni a fare le preparazioni di una volta in montagna con veramente quelle proprio maurizio casari faceva così al napoli no a tricoria che forse porterà pure io alla preparazione a tricoria andiamo in montagna un'altra volta e poi bisogna mettere un uomo vicino a maurizio sarri io prima di mangiante lo avevo detto ai miei gruppi telegram io un nome l'ho fatto non è tommasi mi dispiace perché tommasi ha fatto il sindacalista dei calciatori perciò quello che prende parte ai calciatori e con me non può essere il mio dirigente io ce l'ho un nome che può dare una mano anche al mercato con pinto io prenderei nicolas burdisso professionista argentino cattivo scarface professionista io prenderei nicolas burdisso da affiancare a pinto come dirigente vicino a pinto desantis va bene per la primavera le giovanili ma accanto a pinto nicolas burdisso pinto può essere io non lo conosco può avere delle caratteristiche buone ottime per fare delle cose ma per fare il dirigente visto che comunque petraghi non può più tornare a roma una causa e tutto quanto io punterei friekin ascoltatemi su nicolas burdisso vincolato lo prendete lo mettete a tricoria argentino cattivo e può essere di aiuto molto a maurizio sarri e poi ripeto volete rinnovi video de merita già che hanno rinnovato caso per bagnaz hanno fatto una cazzata i rinnovi io società non li faccio più in stagione in corso i rinnovi si fanno a stagione finita vi ve li dovete meritare i rinnovi a fine stagione dipende dalla posizione quello che è movito quello che abbiamo fatto tutto quanto vi facciamo i rinnovi dei contratti perciò procuratori non rompete i coglioni o ve sta bene così o ve ne è nata a parametro zero non ci sono problemi a roma non vediamo questi fuori classe che non si può fare a meno si può allora una squadra può fare meno di tutto anche di cristiano un alto pensa se non può fare a meno delle pippe che abbiamo perciò ragazzi va bene vi sa bene bene i rinnovi a fine stagione se non vi sa bene la porta è quella andate chiedete l'accezione andatevi a parametro zero non ci sono problemi ma i soldi non si devono buttare più sul monte ingaggi con ingaggi folli questa è la prima cosa per un progetto sostenibile questa è una cosa per per costruire un progetto sportivo e identifichiamo i giocatori con questa dobbiamo responsabilizzarli la roma è una cosa seria la roma è una cosa seria ragazzi se vi è piaciuto il video un bel like e mi raccomando iscrivetevi al canale dagli esempi forza roma forza roma sempre ragazzi forza roma sempre grazie a tutti i nostri spettatori